ti pareva allora io lo faccio per una persona perché io il brusce non lo faccio però mi piace un sacco questa linea monoi matizia tantissima comunque io le metto mi ha detto di far girare e io faccio girare lo metto anche però premetto io non lo faccio mi ci manca anche il brusce che poi i prodotti sono buoni e l'anterova Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate quanti bel prodottini. No? Volebbero essere anche bellini. Grazie a tutti. L'umore di sottofondo. Il canto purtroppo ci so. Grazie a tutti. Purtroppo non ci posso mettere i commenti perché non li conosco. Ci sono anche profumi, vedi? Grazie a tutti. Tutti i trucchini. Però io per i trucchi forse preferisco avoni. Vabbè, quello non posso dire. Io non l'ho mai provato, quindi non posso dire niente. Tutti colore. Ok, sì, vabbè, purtroppo per caricarci vuole un po'. Ormai finisco questo. Ormai finisco questo che ci sono tutti i pennelli. Anche loro sono tutti i pennelli. Anche loro sono tutti i pennelli. Eccoci qui. Che bello questo sottofondo di cane. Eccoci qui. Io ci metto il sesso contouring. Io non li conosco i prodotti, quindi non vi posso dire. a lunghissimu stucatologo. a lunghissimu stucatologo. a lunghissimu stucatologo. a lunghissim. a lunghissimu stucatologo. A lunghissim. Grazie a tutti.